Genghis Khan, nato Temujin intorno al 1162 e morto il 25 agosto 1227, è stato il fondatore e il primo kagan dell'impero mongolo. È conosciuto anche come Kingis Khan. Durante il suo regno, l'impero mongolo divenne il più grande impero terrestre continuo della storia. Genghis Khan nacque in una piccola tribù nomade sulle steppe dell'Asia centrale. Sin da giovane, dimostrò una grande abilità militare e una straordinaria leadership. Riuscì a unire le tribù mongole sotto il suo comando e a organizzare un esercito potente e disciplinato. Le conquiste di Genghis Khan furono impressionanti. Conquistò gran parte dell'Asia centrale, inclusi i territori dell'attuale Mongolia, Cina, Corea, Russia e Persia. Le sue campagne militari furono caratterizzate da una strategia militare innovativa e da una ferocia senza precedenti. Le città che si opponevano al suo dominio venivano distrutte e i loro abitanti venivano massacrati. Nonostante la sua reputazione di crudele conquistatore, Genghis Khan fu anche un abile amministratore. Promosse il commercio e l'interazione culturale tra le diverse regioni dell'impero mongolo. Inoltre, introdusse riforme amministrative e legali che contribuirono a stabilizzare l'impero. Dopo la morte di Genghis Khan, l'impero mongolo continuò ad espandersi sotto il comando dei suoi successori. L'impero raggiunse il suo apice durante il regno di suo nipote Kublai Khan, che fondò la dinastia Yuan in Cina. Il lascito di Genghis Khan è ancora evidente oggi. La sua figura è considerata un simbolo di orgoglio nazionale in Mongolia e la sua influenza culturale si estende fino all'Europa orientale e all'Asia centrale. Inoltre, l'impero mongolo ha avuto un impatto duraturo sulla storia mondiale, aprendo nuove rotte commerciali e promuovendo lo scambio di idee e tecnologie tra diverse civiltà. In conclusione, Genghis Khan è stato un leader straordinario che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia. La sua abilità militare, la sua capacità di unire le tribù mongole e il suo impatto duraturo sull'Asia e sull'Europa lo rendono una figura di grande rilevanza storica.